Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi vediamo come guadagnare online con le cripto grazie alla piattaforma OKX, uno degli exchange più grandi, se non al secondo o terzo posto per volumi di scambio. Veramente una piattaforma fatta bene, molto figa anche esteticamente, mi piace un sacco. Chi mi segue lo sa che vengo dal mondo dell'arte, della musica e queste cose le noto. E mi piace molto, vedremo in questo video una serie di cose che possiamo fare per guadagnare con le cripto, non soltanto facendo trading, ma possiamo guadagnare copiando dei bot automatici, gratuiti, che la piattaforma mette a disposizione. Possiamo fare soldi prestando le nostre cripto e ricevendo un interesse orario incredibile, oppure guadagnare semplicemente bloccando le nostre cripto ferme e tenendole ferme per tot giorni, poi vedremo tutto nel dettaglio e poi magari ovviamente tenendole ferme guadagniamo un interesse. Molto interessante, il primo metodo per guadagnare ovviamente è iscrivendosi alla piattaforma tramite il mio link ragazzi, poi fate una piccola operazione di trading, adesso vi faccio vedere come fare, e ricevete una mystery box e dentro la mystery box potete trovare fino a 10.000 dollari. Ovviamente gli importi variano da 50 dollari a 10.000 dollari, ovviamente la maggior parte degli importi sono piccoli, però perché non provare? Vi basta iscrivervi con il link in descrizione, fare una piccola operazione di trading e ricevere praticamente la mystery box. Ok? Adesso vi faccio vedere come fare trading, però prima, ovviamente il trading è uno dei metodi per guadagnare, ma non è l'unico in questa piattaforma, ecco perché ve la voglio far vedere, potete guadagnare semplicemente facendo delle cose con le vostre cripto. Per prima cosa vi iscrivete, utilizzate il mio link per ricevere la mystery box fino a 10.000 dollari potreste trovare dentro, scrivetemelo nei commenti se li avete vinti, non si sa mai nella vita, pensatemi se li vincete e ricordatevi di me. Quindi vi iscrivete, una cosa che dovete fare assolutamente per poi effettuare il deposito e anche per poter prelevare, dopo che vi siete iscritti, alla fine è semplice, bisogna semplicemente inserire la mail, la password, inserire i propri dati, però poi quando siete dentro dovete andare qui dove c'è l'omino in alto a destra e cliccare su verifica, perché sennò non potete fare nulla praticamente all'interno della piattaforma. Per fare la verifica dovete inviare i vostri documenti, è veramente semplice, dovete anche con la webcam del computer fare un selfie e il gioco è fatto. Veramente in tempo reale vi verificano e siete pronti per fare la prima vostra operazione di trading e ricevere la mystery box. Allora, una volta che vi siete iscritti dovete acquistare le cripto, ok? Se volete fare appunto l'operazione di trading vi consiglio di acquistare gli USDT. Possiamo da acquista criptovaluta qui in alto, acquistare semplicemente con la carta il metodo più semplice, ok? E selezionate gli USDT, non so, mettete anche 10 USDT se volete fare, diciamo, tutto questo per ricevere la mystery box. Mettete 10 euro, comprate, fate acquista, ecco la carta, vedete, di debito o credito potete acquistare confermando il tutto. Una volta che avete le vostre cripto, ovviamente potete comprare qualsiasi cripto, eh? USDT, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, veramente XRP, ADA, Cardano, qualunque, qualunque Solana, qualunque cripto, ok? In base poi a quello che volete fare nella piattaforma e adesso vi faccio vedere. Allora, prima cosa per guadagnare ovviamente è fare trading. Come si fa il trading su OKX? Molto semplice, andiamo qui su trading, andiamo magari, vediamo prima il trading spot, quindi quello molto semplice dove acquistiamo una cripto, magari sale di valore e quindi poi la rivendiamo senza leva, senza niente, molto tranquillo. Come vedete, quindi andando su trading e poi su spot, ci si apre il grafico, ok? Abbiamo qui, qui possiamo scegliere, vedete, quale cripto acquistare, quindi io scelgo per esempio Bitcoin, la coppia Bitcoin-USDT, ovviamente, perché ho depositato USDT, e poi praticamente, quindi sono su Bitcoin-USDT, andando giù possiamo acquistare. O a limite, quindi impostando un prezzo, limite, una volta raggiunto quel prezzo la piattaforma ci acquisterà la cripto, oppure a mercato, quindi compriamo direttamente al prezzo, qui impostiamo i nostri USDT che abbiamo, e facciamo acquista. È la stessa cosa se vogliamo vendere. Quindi facendo questa prima operazione di trading, acquistando sul trading spot, riceveremo la mystery box dal valore di 10.000 dollari. Dentro potremmo trovare 10.000 dollari o anche meno, però provate ragazzi, quindi iscrivetevi con il link e fate una piccola operazione di trading per, o anche grande, come volete, fate trading. Se fate trading, ok, X ve lo consiglio, è uno degli exchange più grandi, e secondo o terzo posto per volumi di scambio, veramente, veramente figo. Per fare trading invece con la leva dobbiamo andare su future, ok. Si apre il grafico, ok, selezioniamo, siamo sui future, controllate qui, clicchiamo su BTC-USDT, qui chiudiamo, e poi BTC-USDT, possiamo anche andare a prenderlo da qui. BTC-USDT, dopodiché, vedete qui possiamo scegliere se cross o isolato, mettiamo isolato, mettiamo leva 5, conferma, e possiamo decidere se acquistare a prezzo limite o mercato. Io metto mercato, metto i miei BTC-USDT, eccoli qui, e posso acquistare a leva 5 con margine isolato. Quindi questo è il trading coi future, diciamo, possiamo tradare qualsiasi cosa, ovviamente qui abbiamo tutte le coppie, ethereum, eccetera, eccetera. Quindi utilizzando il mio link vi iscrivete, verificate il conto, fate un'operazione di trading, e ricevete la mystery box, e potete guadagnare fino a 10.000 dollari. E fin qui ci siamo. Ora vi voglio far vedere i bot di trading, c'è un vero e proprio marketplace dove noi possiamo scegliere i bot di trading, sono completamente gratuiti, li possiamo copiare, ok. Quindi inizieremo ad aprire le operazioni che aprirà il bot, e inizieremo a guadagnare senza fare niente. Se andiamo qui nel, quindi da trading, andiamo qui in bot di trading e poi marketplace, si apre questa schermata, e qui possiamo vedere tutti i bot e le loro performance. E possiamo vedere che questo è attivo da 1045 giorni, è uno spot grid trading. Ora non starò qui ad andare nel dettaglio in cose un po' complicate, però è uno dei bot più semplici, che sfrutta diciamo una griglia che sta tra due range di prezzo, e il bot in automatico va a acquistare o a vendere, ok. Quindi se noi vogliamo praticamente con i filtri scegliere un bot su bitcoin, ok, vi consiglio di copiare un bot che va ad acquistare crypto, che comunque voi acquistereste, e vi consiglio bitcoin ed ethereum sono le più sicure. Questo è attivo da 58 giorni, ha fatto un 22% negli ultimi credo 7 giorni, no, aspettate, che negli ultimi 190 giorni, è attivo da 190 giorni, è seguito da 58 persone. Quindi se noi clicchiamo copia, vediamo che ha fatto il 22%, ovviamente queste percentuali variano, possono cambiare da un momento all'altro, però ecco, possiamo, è copiato da 58 trader, è un più 22%, vedete, da 190 giorni che è attivo, numero di griglie 2, ti dice anche il range di prezzo. Però, volendone trovare qualcuno su bitcoin, quello è quello che è seguito maggiormente, ok. Vediamo per esempio su ethereum, vediamo, ethereum, se c'è qualche bel bot, seguito da 2 persone, 8 persone. Questo qui ha fatto il più 59%, è attivo da 186 giorni, numero di griglie 30, e il prezzo va dagli 862 ai 1762 USDT. Attualmente, credo che ethereum sia sotto i 1200, quindi è molto interessante. Clicchiamo su copia bot, e finiamo sul grafico di ethereum, ethereum USDT. Dopodiché andiamo giù e vediamo che c'è praticamente tutto già impostato, quindi il nostro spot impostato, settato, come abbiamo visto prima, ok, quindi è da 189 giorni, 59%, 13% riduzione massima, le fasce di prezzo, la griglia 30, modalità della griglia aritmetica, criptovaluta e USDT, quindi dobbiamo depositare USDT, importo, possiamo mettere tutti i nostri USDT, 100 USDT, 200 USDT, e poi clicchiamo su crea. A quel punto il bot entrerà in azione, inizierà a comprare e vendere in base a quella fascia di prezzo, e noi possiamo fare dei guadagni senza fare niente, grazie a questi bot che sono gratuiti, altrove magari ve li fanno pagare. Qui su OKX sono gratuiti, ce ne sono per tutte le cripto che volete, potete fare le ricerche su tempi di esecuzione, le riduzioni mensili, le cripto, ce ne sono, se noi mettiamo tutte le cripto, avete visto, tutte le cripto, ce ne sono anche di molto molto performanti, questo è seguito da 1045 persone, ha fatto il 383, ROAD USDT, la coppia, ha un numero di griglie 10, è veramente veramente interessante. Dateci un occhio, ovviamente io non sono un consulente finanziario, fate sempre le vostre dovute ricerche prima di mettere mano al portafoglio, ok? Però il bot automatico è sicuramente da provare, iscrivetevi al canale perché ne farò un video dove testerò uno di questi bot e vi farò vedere quanto posso guadagnare. Quindi iscrivetevi al canale e iscrivetevi ad OKX nel link in descrizione, se volete già guadagnare in modo facile vi basta iscrivervi, verificare il conto e poi semplicemente fare una piccola operazione di trading e ricevete una mystery box che dentro potrete trovare anche 10.000 dollari, quindi provate, magari ne trovate 100, 200 e potete anche per esempio provare uno di questi bot, mi raccomando. Altro modo di guadagnare, se noi andiamo su Earn, qui migliora la tua posizione, io ce l'ho in italiano, su Earn possiamo guadagnare bloccando le nostre cripto e ricevendo un interesse. Non limitarti ad odlare, guadagna. Ok? Quindi possiamo vedere, siamo su Earn, siamo su Earn, praticamente bloccando queste cripto termine, è tutto flessibile, quindi possiamo avere degli interessi. Basta poi selezionare, ma la cosa che è molto figa è risparmi. Noi possiamo prestare, scusate, avevo un goccio d'acqua, noi possiamo prestare per esempio i nostri USDT e, se clicchiamo su Sottoscrivi, in questo momento l'API, che è il guadagno annuale, diciamo, è dell'1%, quindi possiamo mettere 1000 dollari, riceviamo credo 10 USDT, però vedete, c'è un ulteriore bonus del 10% se mettiamo almeno 2000 USDT, che è interessante. E praticamente come funziona? Vedete, Sottoscrizione alle 16.38 che è adesso, la maturazione degli interessi alle 17, il pagamento degli interessi alle 18. Ecco, se noi mettiamo 2000 USDT possiamo guadagnare fino a 600 USDT. Adesso andiamo a vedere, torniamo su Earn, ci fa fare il calcolo. E' una cosa pazzesca. Calcola guadagni. Sul risparmi, sulla funzione risparmi, ok, se mettiamo 1000 USDT, avendo il 10% di API, abbiamo 300 dollari. Se ne mettiamo 2000, ok, lì era su 2000, da 0 a 2000, abbiamo 600 USDT. Quindi 600 dollari in USDT che possiamo guadagnare semplicemente depositando le nostre cripto e prestandole nel giro di un'ora possiamo fare questi guadagni. E' una delle funzioni veramente più fighe, ma ce n'è anche un'altra che è molto figa, che è, sempre somigliore alla tua posizione, che è doppio investimento, una sorta di scommessa che possiamo fare, orario, sì, in un determinato periodo di tempo, dire se, secondo noi, il prezzo di una determinata cripto sale o scende. Seleziona il prezzo di riferimento. Se Bitcoin non raggiunge il tuo prezzo di riferimento alla scadenza, guadagnerai Bitcoin extra. Se Bitcoin raggiunge il tuo prezzo di riferimento, venderai Bitcoin a un prezzo superiore rispetto al tuo prezzo di abbonamento e guadagnerai USDT extra. Possiamo vedere, dire, se per noi diciamo Bitcoin sale oppure scende, comprare al ribasso. Clicchiamo sottoscrivi, possiamo impostare i nostri USDT che abbiamo depositato, vediamo i rendimenti, se il prezzo è minore o uguale a 16.600 e se il prezzo è, diciamo, maggiore di 16.600 alla scadenza. Molto, molto bello, saldo insufficiente ovviamente perché non ho niente e possiamo guadagnare fino al 57% se indoviniamo, diciamo, detta in modo semplice, la nostra scommessa. Questa è la piattaforma, sono le cose più interessanti su OKX. Possiamo fare trading sia spot che future. Possiamo copiare un bot automatico, fighissimo. Possiamo scommettere sul prezzo, possiamo prestare i nostri soldi e ricevere interessi. Possiamo tenere bloccate ferme, quindi acquistare delle crypto, andare su Earn e vedere che interessi ci sono. Su Bitcoin il 51, il 55% è il P stimato, che vuol dire che è il guadagno spalmato su tutto l'anno. E selezioniamo, impostiamo, diciamo, vedete qui ci dice tutti i vari guadagni, e quindi abbiamo rischio basso, l'1-2%, però lo dobbiamo tenere fisso, però qui è esaurito, quindi solo questi sono disponibili, però è un modo di guadagnare con le crypto davvero interessante. Quindi vi invito ad iscrivervi ad OKX utilizzando il mio link, verificate il conto, fate un'operazione di trading e avete una mystery box fino a 10.000 dollari. Quindi provate, fatemi sapere come va e iscrivetevi al canale perché testerò uno di questi bot di trading automatico. Voglio copiare un bot di OKX e vedere quanto guadagnare. Quindi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Commentate e iscrivetevi ad OKX con il mio link per vincere fino a 10.000 dollari. Io vi ringrazio di aver visto il video fin qui e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!